Promuovere la cooperazione tra soggetti pubblici e privati attraverso la creazione di una rete internazionale tra Puglia, Albania e Montenegro a partire dal trattamento in telemedicina di infarti, malattie neurodegenerative e croniche. Il Policlinico di Bari è capofila del progetto FASE che mira a sviluppare il settore del e-health attraverso strumenti e procedure tecnologiche innovative applicate in Italia, Albania e Montenegro. Questo non solo migliorando i servizi sanitari pubblici e privati ma promuovendo anche l'innovazione delle imprese che operano nell'ambito delle tecnologie digitali e dei servizi sanitari. Le attività di FASE si concentrano sul trattamento efficace di infarti, malattie neurodegenerative e croniche, avendo come obiettivi principali quelli di creare un ecosistema di politiche standard, pratiche e strumenti, responsabilizzare i pazienti e i caregiver dell'area, incentivare la creazione e lo sviluppo del settore e-health promuovendo la cooperazione. Concretamente è già accaduto che le migliori risorse in ambito di assistenza attraverso le tecnologie informatiche sono state condivise con i paesi dell'altra sponda, quindi Albania e Montenegro stanno insieme a noi costruendo delle piattaforme che serviranno a questi paesi per replicare l'esperienza per esempio della telecardiologia ma anche al servizio delle cronicità che sono il tema di frontiera dei prossimi anni anche per la sanità italiana.